buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale io sono alfrede 73 e oggi ci occupiamo di testare radiocomandi quindi telecomandi e radiofrequenza con l'utilizzo del multimetro con questo semplice trucco che vi svelerò in questo video sul mio banco da lavoro o tre telecomandi tutti funzionanti alla frequenza di 433 punto 92 megahertz il primo è il classico telecomando d'autovettura con rolling code cioè il codice variabile che cambia ad ogni pressione di tasto il secondo è il telecomando di un cancello anche questo rolling code come il primo quindi è codice variabile infine questo è il classico telecomando per delle prese radiocomandate anche questo funzionante a 434 megahertz questo è un telecomando a codice fisso quindi il codice trasmesso è sempre uguale ed è la combinazione dei 5 di switch presenti all'interno del vano batteria che identificano la chiave di questo specifico telecomando più il codice del pulsante premuto sulla tastiera è un radiocomando meno sicuro degli altri può essere clonato facilmente in quanto il suo codice appunto fisso questi telecomandi possono essere verificati semplicemente con il multimetro quello che ci necessita è un multimetro con la funzione 200 millivolt continui e oltre a questo test ci servirà un componente elettronico specifico ossia un diodo cosiddetto al germanio rivelatore che nella fattispecie è un a o 95 sostituibile con un doppia a 117 questi diodi di solito si trovano negli apparati radio e servono proprio per rivelare la bassa frequenza ossia estrarre dalla portante radiofrequenza l'informazione che sia il segnale audio o anche un codice messo da un radiocomando anzitutto vado a cambiare i miei puntali del tester per inserirvi dei puntali a cui posso facilmente agganciare questo diodo al germanio in maniera ferma e decisa sono puntali ad aggancio rapido da me auto costruiti molto comodi in mille applicazioni una volta realizzata questa sonda radiofrequenza diciamo così basterà avvicinare il mio diodo al germanio al radiocomando di cui voglio misurare l'intensità di radiofrequenza e premendo il pulsante relativo vedremo che il mio multimetro mi indicherà l'ampiezza in termini di millivolt chiaramente del segnale radio captato dal mio diodo rivelatore quindi da 0,9 millivolt circa premendo il pulsante passiamo a 1,5 millivolt segno che c'è della radiofrequenza trasmessa dal radiocomando vediamo adesso il radiocomando del cancello anche per questo pongo la mia sonda nei pressi dell'antenna e quando vado a premere il pulsante notate lo scostamento che stavolta è maggiore arriviamo addirittura a 70 millivolt e quindi questo è un telecomando che chiaramente deve avere una potenza maggiore per raggiungere il cancello quindi anche questo funziona correttamente passiamo al terzo che è il radiocomando delle prese questo ha una intensità minore quindi devo cercare di avvicinare il più possibile la sonda alla bobina di trasmissione anche qui vedete premendo il pulsante ottengo una divergenza del mio multimetro sintomo che il radiocomando funziona correttamente con questo sistema possiamo rivelare anche i telecomandi guasti che non funzionano correttamente come questo che io adesso in riparazione è un telecomando di un'autovettura che però funziona saltuariamente ha un problema con il chip di radiofrequenza ma di questo ci occuperemo in un prossimo video se vado ad alimentare a tre volte questo radiocomando e premo i pulsanti sempre avvicinando la sonda alla bobina di trasmissione vediamo che non vi è nessun cambiamento rilevante del mio multimetro segno che questo radiocomando non sta producendo in questo momento radiofrequenza e quindi è rotto è guasto da riparare vedremo in futuro come riparare questo radiocomando con questo trucco del diodo al germanio possiamo testare molti radiocomandi su che funzionano sui 433 megahertz come frequenza massima e basterà sempre avvicinare qualunque radiocomando a questo diodo ad esempio questo è un altro radiocomando a codice fisso sui 433 punto 92 megahertz e avvicinandolo alla sonda anche qui avremo una indicazione di millivolte che ci dice che questo telecomando funziona correttamente bene dopo aver testato questi radiocomandi con il multimetro possiamo andare effettuare un altro test utilizzando però stavolta un mini oscilloscopio digitale come questo questo è un dso 150 a cui io ho aggiunto una pila ricaricabile al litio questo oscilloscopio è stato oggetto di un mio video precedente che vi invito ad andare a vedere anche qui utilizzerò il mio dio al germanio che andrò a porre agli ingressi con il catodo posto sul positivo sull'ingresso rosso del mio oscilloscopio e l'anodo sull'ingresso meno mi avvicino al radiocomando dalla parte sempre dell'antenna mi raccomando vado ad impostare una sensibilità molto alta del dell'oscilloscopio perché dovrà captare un segnale molto debole e una volta impostati parametri giusti premendo il pulsante vedrete apparire il segnale del codice inviato dal telecomando attraverso la radiofrequenza si tratta di un rolling code cioè di un codice variabile ad ogni pressione però abbiamo verificato la bontà di questo radiocomando se vi sta piacendo questo video questo è il momento buono per mettere like e iscriversi al canale grazie per il supporto è la volta del radiocomando apri cancello anche qui vediamo il segnale codificato trasmesso da questo radiocomando la cui intensità chiaramente varia anche in base alla posizione della mia sonda c'è una maggior vicinanza aumenterà l'intensità e viceversa e comunque anche questo radiocomando funziona correttamente identica cosa per il radiocomando delle prese radiocomandate gioco un po sui settaggi dei tempi e anche qui vedrò apparire alla pressione del pulsante il codice trasmesso il codice fisso trasmesso da questo radiocomando codice standard pt 22 62 composto da 10 bit trivalenti i primi cinque sono dati dal settaggio dei di switch della chiave altri cinque bit dipendono dal pulsante premuto sulla tastiera quindi se andiamo a spostare questi di switch avremo una forma del treno di impulsi diversa per i primi cinque bit e allora quando vado a ripremere un qualunque pulsante vedrò i primi bit che hanno tutti la stessa lo stesso fronte di salita è molto stretto come potete vedere perché ho cambiato i primi cinque bit di questo codice chiave trasmesso da questo telecomando mentre gli altri bit dipendono dal tasto premuto sulla tastiera con questo trucco unito a un oscilloscopio quindi posso anche andare a scoprire qual è la combinazione dei bit di un telecomando a codice fisso studiando la forma d'onda e quindi potrò anche clonarlo cosa non possibile ovviamente per i telecomandi rolling code per clonare un radiocomando codice fisso basterà avvicinare il radiocomando alla nostra sonda osservare i bit e riprodurre la stessa combinazione di di switch attraverso il telecomando programmabile come ad esempio quello di una presa radiocomandata in nostro possesso bene a questo punto prendiamo un tester un po più professionale questo è un tester di radiocomandi e telecomandi professionale marca voglio con la w che utilizza una batteria 9 volte e che dispone di un interruttore laterale di accensione che ci fa vedere su un display a led rossi la frequenza trasmessa dal telecomando avvicino il telecomando premo il pulsante e vedrò una frequenza che anche se non è esattamente quella del telecomando comunque sta significare di indicare che il telecomando funziona correttamente evidentemente si tratta di un frequenzimetro senza contatto che non ha una grandissima precisione proprio perché senza contatto ma tuttavia ci permette di testare semplicemente l'emissione di radiofrequenza da parte di un telecomando efficiente con questo strumento inoltre si possono testare anche i telecomandi ad infrarosso dei televisori chiaramente ha un fotodiodo ricevente e l'apparizione del simbolo 1a ci dice che il segnale è stato ricevuto e quindi il telecomando funziona correttamente quindi si tratta di uno strumento molto utile nel laboratorio del riparatore radio e del riparatore elettronico in generale bene amici anche per oggi è tutto io spero che questo video vi sia piaciuto vi invito se così è a supportarmi ovviamente mettendo like e iscrivendovi al canale e cosa aggiungere ci vediamo alla prossima volta